Ultime riflessioni in corso sulla candidatura alle europee. A sentire alcuni dei suoi fedelissimi, Giorgia Meloni non ha ancora sciolto il nodo o, quantomeno, non ha condiviso ancora la sua decisione finale. La domanda, inevitabilmente, verrà sollevata nella conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio, slittata per lo stato influenzale che l'ha condizionata prima di Natale. Pochi si stupirebbero di un sì, ma non è escluso che la risposta della leader di Fratelli d'Italia sia rinviata ad inizio anno e ad un'altra sede diversa da quella dedicata al bilancio del capo del governo. Mancano meno di sei mesi dalle elezioni, un memorabile appuntamento con la storia, come lo ha definito la stessa Meloni, ad Atreiu, la Kermess che di fatto ha aperto una lunga campagna elettorale. Il momento per individuare strategie e candidati si avvicina. L'obiettivo è il 30% e l'idea che la Premier possa fare la capolista è un'ipotesi concreta. Dopo il Natale in famiglia, fra Milano e Roma, con auguri social accompagnati dalla foto in cui abbraccia la figlia Ginevra, la Premier si prepara dunque ad una conferenza stampa che l'anno scorso è durata quasi tre ore. Fra i temi scontati, anche la bocciatura della ratifica del MES, con le ricadute nei rapporti con i partner europei, il patto di stabilità, ma anche manovra, politiche fiscali e giustizia. A proposito di questo, la Federazione Nazionale della Stampa, contestando il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, non parteciperà alla conferenza stampa della Presidente del Consiglio e promuoverà una protesta simbolica.